Scusa Ciri, guarda questo è qua, perché è troppo indietro, io faccio così, metti dentro, adesso sta andando, non sono il commercio bombo è che sono aria, si si, quelle dei ciclisti, sono pistolini così, e ce li ho, si, si, le vendono anche al Decathlon, si, le hai imparato di operare, e fai una revisione, andare va, non capisco, andare va perché vedi che gonfia, o dici che aspira l'aria, da tirare in fronte, magari è lo stantifo al contrario, magari c'è il, oh quanto, dobbiamo gonfiare, se è a mostrare, a due, come il quale del Marco, dove ti ha detto, dove è il tapino, e non si è arrivato un po' per andare su medio, meno male che avevo sui guanti, sai che io il tempo roi che la fa la muovo tutti, ti sa, c'è anche tu, se la mia c'è un po' d'acqua, ah si c'è, minchia, ho fricciato come la terra,